con questo video tutorial vedremo come inserire il servizio prestato contemporaneamente su classi di concorso differenti andiamo ad accertarci innanzitutto di aver caricato le classi concorso in cui si è svolto il servizio sulla prima sezione cioè scelte gradatorie di interesse fasce titoli di eccesso accedendo andiamo a vedere per esempio che c'è caricata la prima fascia a 0 27 e la seconda fascia a 0 41 se il docente ha insegnato nello stesso periodo sia sulla 41 che sulla 27 può dichiarare entrambi i servizi e vedersi valutato per intero il servizio sia nella 0 27 e sia nella 0 41 andiamo a vedere come torniamo indietro e andiamo su titoli di servizio andiamo su azioni disponibili accedi ed entriamo in servizi inseriti dall'aspirante aggiungiamo il titolo di servizio e facciamo come primo titolo di servizio quello prestato nella 0 27 e consideriamo a 0 27 diamo l'anno 2020 per esempio 2021 e indichiamo poi l'insegnamento su cui è stato prestato il servizio diremo la 0 27 in modo che sarà un servizio pienamente specifico e diremo che la tipologia del servizio è proprio di carattere specifico indicando la il punto c1 dopodiché saltiamo questa tipologia di supervalutazione che è chiaramente facoltativa e andiamo a dire il periodo del servizio per esempio consideriamo il settembre 2020 come inizio e come fine il 30 giugno 2021 andiamo sul giugno 30 giugno 2021 e questo è il servizio che si può vedere il calcolo in giorni che da diritto a 12 punti dobbiamo spiegare dire spiegare dare per come indicazione anche dove si è svolto per esempio presso il liceo scientifico leonardo da vinci di reggio calabria vediamo come provincia e il comune sempre reggio calabria ecco possiamo tranquillamente inserire questo servizio che regolarmente verrà inserito proprio nella sezione predisposta aggiungiamo un altro titolo di servizio e facciamo in modo che ricalchi lo stesso periodo del precedente però in altra classe di concorso per cui andando sulla 0 41 sempre 2020 21 indicando sempre che basta volta nella 41 dunque si sceglie informatica e diamo come tipologia servizio sempre il c1 cioè quello specifico se noi mettessimo lo stesso periodo di prima e dunque il 18 settembre 2020 e il 30 giugno e poi indichiamo la scuola stavolta mettiamo liceo scientifico alessandro volta sempre reggio calabria è comune sempre reggio calabria a questo punto facendo inserisci noterete che il servizio al 0 41 ricalca perfettamente il servizio al 0 27 i due servizi vengono caricati e entrambi entrambi e a questo punto il punteggio sarà di 12 punti per la 0 27 ma anche di 12 punti per la 0 41 speriamo che questo video tutorial sia utile a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora perché avrete altri video tutorial e altre informazioni grazie e arrivederci con questo video tutorial spiegheremo che cosa sono i titoli di preferenza e a cosa servono innanzitutto il titolo di preferenza serve per sopravvanzare i concorrenti in gradatore al gps a parità di punteggio qualora si abbia una preferenza più forte rispetto ai propri concorrenti che cosa significa un titolo di preferenza più forte rispetto a un altro andiamo a vedere in azioni disponibili inserisci le preferenze diciamo innanzitutto che i titoli di preferenza si inseriscono una volta sola e vanno a cascata su tutte le gps per cui si è inseriti un titolo di preferenza è più forte rispetto a un altro secondo il numero progressivo che vedete qui dunque la preferenza 1 è chiaramente più importante della preferenza 2 o della preferenza 3 e così via dunque si segue l'ordine progressivo per l'importanza della preferenza andiamo a vedere quale vantaggio si può avere e se si può avere un titolo di preferenza qualora si sia svolto per non meno di un anno si intende anno scolastico un servizio presso le dipendenze del ministero dell'istruzione si parla di preferenza numero 17 andando alla preferenza numero 17 si si vede e cliccando qui si acquisisce la preferenza di aver prestato servizio senza demerito e dunque senza aver ricevuto mai una sanzione disciplinare un provvedimento disciplinare a qualunque titolo dunque sia come docente sia come personale sia come dipendente proprio dell'ufficio scolastico provinciale piuttosto che regionale cioè alle dipendenze del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i vi inclusi chiaramente i docenti qui cliccando questo si ottiene la preferenza numero 17 si deve dire che per non meno di un anno significa o i 180 giorni o i 167 giorni o un intero secondo quadrimestre continuativo dall'1 febbraio fino agli scrutini speriamo che questo video tutorial possa esservi di aiuto seguiteci ancora nei nostri canali facebook youtube e nel nostro sito www.tecnaescola.it perchè vi informeremo su tante altre cose riguardanti anche le gps arrivederci con questo video tutorial vedremo come inserire il titolo di servizio prestato in una disciplina che va a essere alternativa alla religione cattolica diciamo subito che questo tipo di servizio vale la metà del punteggio perchè è visto come servizio specifico bisogna andare su titoli di servizio chiaramente dopo aver caricato la sezione 1 sono le gradatorie gps di interesse e andando su titoli di servizio e facendo accedi si entra per poter caricare il servizio inserito dall'aspirante immaginiamo di aggiungere un titolo di servizio e di inserire proprio quello riferito all'alternativa della religione cattolica intanto si deve dire su quale classe di concorso si vuole caricare per esempio si va a caricare sulla 041 scienze tecnologie informatiche dire in quale anno è stato svolto anzi vogliamo far notare prima di inserire l'anno scolastico il nota bene qua sotto il servizio di tipo c2 a specifico va indicato comunque nei seguenti casi vedete c'è proprio il caso della religione cattolica o di attività alternative alla religione cattolica dunque è un servizio specifico che vale la metà del punteggio immaginiamo di averlo fatto in questo anno scolastico 2021-22 di averlo fatto in italia e di aver insegnato ecco qui troverete tutte le classi di concorsi in fondo troverete proprio la relativa servizio su attività alternative alla religione cattolica dunque cliccando in questo avrete specificato dove avete fatto il servizio dopo di che la tipologia del servizio dovete mettere appunto c2 e indicare il periodo di svolgimento per esempio dal l'ottobre 2021 a tutt'oggi dunque al 2022 al 18 maggio 2022 vedete ecco calcolati i giorni superano i 180 dunque è diciamo un anno intero però che vale metà del punteggio dovete dire anche dove avete fatto il servizio per esempio al liceo scientifico volta mettete per esempio reggio calabria reggio calabria di nuovo e così facendo voi inserirete il servizio e viene inserito a pieno titolo nei servizi inseriti dall'aspirante speriamo che questo video tutorial sia utile a tutti i nostri lettori e seguiteci ancora perché vi informeremo sia sui canali facebook e youtube di tecnica della scuola sia sul nostro sito www.tecnica della scuola.it grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti